Buonasera a tutti gentili telespettatori dai capelli poco curati, dato che ahimè i parrucchieri sono chiusi ormai da un pezzo, proprio perché i parrucchieri sono chiusi, qual è stata l'idea della nostra televisione? Andremo ad intervistare alcuni di voi direttamente dalle proprie abitazioni, dite voi che cazzo c'entrano i parrucchieri? Niente, però almeno facciamo qualcosa, direttamente da Campocatino abbiamo Dino! Buonasera a tutti! Buonasera a lei Dino, come se la passa adesso che in giro non c'è nessuno? Ma guardi che qui a Campocatino non c'era nessuno neanche a Bima, sicché... Per la spesa ad esempio come si arrangia? Ma guardimi, da quando assaggiate i ragnoli la spesa io la faccio mica più! Lei mangia i ragni? Allora le spiego, a me mi dichino tutti che sono ticchio, ma io non sono ticchio, sono un grande risparmiatore e per risparmiare ho deciso di mangiare quello che troviedi! E troviedi? Troviedi, troviedi, c'è un allevamento di ragnoli che so a posto per tutta la vita! Quindi a lei non è cambiato nulla? No! Bene, grazie al nostro amico Dino, adesso spostiamoci verso la costa, più precisamente a Livorno, dove abbiamo in collegamento Michael! Dylan, scendi dagli scogli molli! Dylan, puttana maia, scendi dagli scogli ti smusi! Signor Michael, buonasera! Dì, buonasera, scusi eh, c'è il mio figliolo che corre sugli scogli molli! Sugli scogli bagnati! Sì, l'onde l'hanno smollati! Ma lei quindi è in giro, giusto? Se è con suo figlio sugli scogli! Ma che aggiro so a casa? Il mio figlio è sul terrazzo! Sul terrazzo? Ma quindi hai il mare a due passi! Ma scherzi, dè! A me la mattina mi svegliano gabbiani e provano a mangiare pesce rosso e c'ho un cucina! Certe tronate vesti gabbiani nel vetro dell'acquario ti farei senti! Speriamo di poterci venire anche noi al mare quest'anno! Voi dite si va al mare! De noi no! Non si aspetta che il mare venga da noi! Infatti, quando c'è all'arta marea, toccarci a tutti i mobili perché c'ho l'acqua in salotto! Pallino, io pesco saraghi con la bolognese a sede sul divano, non so se... Grazie Michael, adesso spostiamoci verso la città, a Firenze, dove abbiamo in collegamento il nostro amico Michelangelo! Buonasera a voi! Ci racconti qualcosa? Come va? Come se la passa? Le nomi no, ma si va! Cosa fa per ammazzare il tempo? Ma io gioco alla play online, sono sincero, questi tre giorni di quarantena mi sono volati! Sono due mesi che stiamo in quarantena! Due mesi? Ho messo una la sveglia! Grazie Michelangelo, adesso abbiamo in collegamento un pisano, buonasera Bastiano! Buonasera a una sega! Benissimo, come va? Ha sentito quanti cinghiali ci sono in giro? Se ha qualche consiglio da dare ai cittadini? Diamine! Se qualora si ritrovi faccia a faccia con un cignale proprio a tu per tu... Ti posso dare tu, no? Te? Ti posso dare te? Certo! Se il cignale si vocca li ha l'unio modo e ficcando i diti nell'occhio! Io ho sentito che è molto efficace anche la tecnica dell'apparire più grossi, ad esempio aprendo il giacchetto o la maglia a ventaglio così sopra le spalle, muovendosi e emulando dei versi per cercare di intimidirlo. Ma ya, Leo, se lo figli proprio sul sentimento, ti immaginati un cignale che ti vede uno da solo nel bosco che smanacca così a questa maniera e fa tutti i versi, anche se ti voleva carià! Il cignale dice, lasciamo lo stampo, questo qui, guarda lì che versi fa e non deve stare tanto bene!